È il posillipo d'Italo Postiglione e compagni ad aggiudicarsi a Brusciano il trofeo Paolo De Crescenzo 2019. I rossoverdi, allenati da Elios Marsili e Davide Truppa, bissano così il successo sconfiggendo in finale il Villani 10-7. Il trofeo, che quest'anno si riconferma dopo la prima edizione dello scorso anno, è dedicato alla memoria di Paolo De Crescenzo, allenatore anche del posillipo e della nazionale italiana, capace di vincere 9 scudetti, 2 coppe delle coppe, 2 coppe Italia e soprattutto 2 coppe dei campioni, oltre che la supercoppa europea. Il ricordo di Paolo De Crescenzo, una grande persona, splendido allenatore che ha lasciato il segno nel nostro mondo, quindi la federazione non può che essere a sostegno di questo evento che è appunto la seconda edizione. Paolo ha lasciato una grande eredità come uomo e quindi è giusto continuare a mantenere vivo il ricordo e quindi ringraziamento all'Acqua Avion, Fabio Bencinga e Fabio Voletti che continuano in questa opera eccellente, soprattutto poi nei confronti dei giovani per le attività di base che sono fondamentali per la nostra federazione. Il suo modo di essere, il suo modo di fare, di trasmettere valori sani, non solo tecnici, tattici, ma anche proprio di cultura sportiva, hanno dato dei grandissimi risultati. E quindi è il minimo organizzare un torneo dedicato a lui, questa è la seconda edizione e ne siamo veramente molto fieri. Io parlo non solo di pallanuto, di sport, di cultura sportiva, era quella che Paolo fondamentalmente ci ha assegnato già quando noi giocavamo con lui, quando lui è stato tecnico del Posillipo, è stato tecnico della Nazionale. Lui parlava proprio dello sport, di quello che deve trasmettere lo sport. A noi che eravamo piccolini, io ho iniziato con lui quando avevo fondamentalmente 18-19 anni e quei valori noi cerchiamo di trasmetterli e portarli a casa dei bambini, dei piccoli atleti che adesso si stanno affacciando a una disciplina che è bellissima, quella della pallanuoto, ma che è ricca anche di tanti sacrifici. Quindi quello che ci ha insegnato Paolo è la perseveranza, la dedizione, l'umiltà, perché solo con questi valori si possono raggiungere grandissimi risultati.